Il Vangelo di Giovanni, che narra la terza apparizione di Gesù risorto sulla riva del lago di Galilea con la pesca miracolosa, ha fatto da spunto alle parole che Papa Francesco ha pronunciato in questo Regina Celi. Il Pontefice ha esortato alla fede e alla perseveranza, la stessa che ha portato i discepoli, stanchi, atterreti, delusi, per non aver pescato nulla, a gettare di nuovo le reti in mare, dopo aver riconosciuto Gesù e aver ascoltato il suo comando a proseguire la pesca, che è diventata ad un tratto abbondante. Di fronte a questo ennesimo miracolo, Giovanni ha esclamato, è il Signore. Proprio in questa esclamazione, ha sottolineato il Papa, c'è tutto l'entusiasmo della fede pasquale, piena di gioia e di stupore, che contrasta fortemente con lo smarrimento, lo sconforto. La presenza di Cristo risorto trasforma ogni cosa. Il buio è evvinto dalla luce, il lavoro inutile diventa nuovamente fruttuoso e promettente, il senso di stanchezza e abbandono lascia il posto a un nuovo slancio e alla certezza che Lui è con noi. Così, anche oggi, le tenebre del male e la fatica del vivere quotidiano, per quanto sembrino prevalere, non hanno mai il sopravvento su quanti credono. Anche oggi la Chiesa continua a far risuonare questo annuncio festoso. La gioia e la speranza continuano a scorrere nei cuori, nei volti, nei gesti, nelle parole. Tutti noi cristiani siamo chiamati a comunicare questo messaggio di risurrezioni a quanti incontriamo, specialmente a chi soffre, a chi è solo, a chi si trova in condizioni precari, agli ammalati, ai rifugiati, agli emarginati. A tutti facciamo arrivare un raggio della luce di Cristo risorto.